E non si può rientrare, salvia a tutti. Il cuore è quattro, siamo andati a chi. No, sei. Tre, quattro, tre, sei. Tre nostre. Tre, quattro, tre. Tre, tre. Tre, tre, tre. Tre! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.